Grazie di cuore a tutti per il supporto che continuate a dare a queste serie. Vi chiediamo semplicemente di continuare a supportarci, quindi mi raccomando lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella, fatelo. Se volete che queste serie continuino, ecco, detto questo, e vai col video. Che hai fatto oggi? Che problemi c'hai? Cagarella? Costipazione, come al solito, bentornati e ben ritrovati da me e dal buon Fabio in versione Santino. Mi raccomando, continuate a supportare questa serie, oggi come avete ben visto, lo avrete capito dal titolo, se riesco a metterlo tutto quanto, è il crossover nel crossover, facciamo tutto in un unico episodio, perché non riuscivo ragazzi, ci sono troppi contenuti da pubblicare. Quindi mi raccomando, mi piace, soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella anche su questo canale YouTube per restare sempre aggiornati sui nostri contenuti, non vi perderete più nulla, tantissimi di voi ci seguono sempre, o comunque molto spesso, ma ancora non si sono iscritti. Se ci volete fare il regalo più grande in assoluto, vi basterà iscrivervi appunto e attivare la campanella. Due canali di calcio e un extra calcio in descrizione, come sempre, compariranno qui durante il video. Se non ti iscrivi, tu che stai guardando questo contenuto, stasettimana la tua squadra del cuore fa una figuraccia di quelle clamorose. Io, fossi in te, non rischierei di seguirci in costa nulla. Sei pronto, caro buon Fabio? Risultati dell'ultimo turno di Serie A e poi partiamo con i nuovi pronostici. Salernitana-Sassuolo, X2, indovinata. Milan-Lecce, 1, indovinata. Roma-Lazio-Gol, ovviamente sbagliata. Empoli-Torino, 1-X, indovinata. Frosinone-Bologna, X2, indovinata. Monza-Napoli, X2, indovinata. Cagliari-Atalanta, gol, indovinata. Verona-Genoa, 1-X, ovviamente sbagliata. Juventus-Fiorentina, 1-X, indovinata. E Udinese-Inter, 2, indovinata. 8 su 10. Ma tu ti rendi conto della forza? Della pro-rompetta? Due ne abbiamo sbagliate. Ok, perfetto. Noi i pronostici siamo alla 32esima, giornata di Serie A. E vado immediatamente e rapidamente perché appunto in un unico contenuto dobbiamo fare 787.000 cose. Lazio-Salernitana, io e Fabio, senza indugio andiamo sull'uno. Non crediamo la Salernitana possa fare chissà cosa. E l'uccello che ovviamente è stato zitto fino a mo' e mo' c'ha tutta la prorompenza del mondo, pure lui, le primavere. Se vuoi inchiappettare la pappa, inchiappettare la pappa. Cale, non rompe lì, coglioni. Che qui si sta lavorando, con Santino. Pensavo se stesse zitto, ma corcazzo. Lecce-Empoli, 1-X. 1-X, secondo me a sto G. Lecce è un po' troppo sfortunato. Prima Roma e poi Milan e situazioni. Una cosa in altra, potrebbe essere questa la partita della svolta. 1-X per il Lecce. Torino-Juventus, X2. Senza indugio, ma potrebbe essere da 1 a 1 tutta la vita, chi lo sa. Bologna-Monza, 1-X. Non credo che il Bologna cadrà nuovamente in situazioni. sconfitta, no, impossibile, secondo me. Al massimo può uscirci fuori un pareggio anche in questa. Napoli-Frosinone, 1-1 secco. Sassuolo-Milan, X2, nonostante le fatiche europee. Udinese-Roma, stessa cosa. X2, nonostante le fatiche europee. Inter-Cagliari, 1-1 secco. Fiorentina-Genua, 1-X, nonostante le fatiche europee. E Atalanta-Verona, 1-1 secco. Detto questo, sfida alla schedina. Risultati scorsa settimana. Poi metterò tutto qui. Sto cercando di organizzarmi perché ho tantissime cose da snocciolare. Riportate anche le vostre schedine se avete partecipato qui sotto nei commenti. Vediamo che abbiamo combinato io e Fabio. Schedina tua, zuzzo. Allora, Salernitana-Sassuolo, 1-2 sbagliata. Milan-Lecce, 2-0 sbagliata. Empoli-Torino, 1-1 sbagliata. Frosinone-Bologna, 2-2 sbagliata. Verona-Genua, 2-1 partita bonus sbagliata. Ne hai beccato un cazzo, sei una pippa. Allora, la mia. Salernitana-Sassuolo, 1-1. Niente. Empoli-Torino, 1-1 partita bonus sbagliata. Frosinone-Bologna, 1-2 sbagliata. Verona-Genua, 1-1 sbagliata. Udinese-Inter, 0-2 sbagliata. Una pippa pure io, sbagliato tutto pure io. Quindi 0-0 stasettimana. Rimaniamo punti totali e scontri diretti. 16 punti per te. 29 per me. Buono, ho letto per un attimo 23. 29 mi fa stare abbastanza tranquillo. 5 punti totali per te. 13 punti totali per me. Mi sa che sta botta è annata. Non mi sa che è annata. 5 a 13. Da mocco ho vinto. Benissimo. So campione perlomeno in qualcosina. Però ci sono ancora cose da sistemare, da limare. Che si devono definire con calma. Allora. Potete fare la vostra schedina qua sotto nei commenti. Delle 10 partite di questa giornata, la 32esima di Serie A, scegliete 5 partite. 5 risultati esatti. Tra questi risultati esatti un match of the match o partita bonus che dir si voglia. Se beccate quella vale 2 punti. Mentre tutti gli altri risultati esatti, se beccati valgono un punto, vince chi fa più punti. Ecco la schedina. Lazio-Salernitana 2 a 1. Le Cempoli 1 a 1. Torino-Juve 0 a 1. Sassuolo-Milano 1 a 2. Inter-Cagliari. Il Goodfabio dice 3 a 0. E detta la sua schedina, ovviamente vi dico pura mia. Preparatevi perché Lazio-Salernitana l'ho messa pure io ma per me finisce 2 a 0. Le Cempoli 2 a 1. Napoli-Frosinone 3 a 1. Fiorentina-Genua 1 a 1. E Atalanta-Verona per me finisce 2 a 1 per l'Atalanta. Detto questo, risultati fantacabbo della scorsa settimana. Eccoli qua. Chi ci aveva in porta, caro Goodfair? Riportate pure i vostri risultati qua sotto nei commenti. Chi ci aveva in porta? Voi dico io, c'aveva Amandas che prende meno 1. Mentre io Sommer che mi piglia però meno 1. Mannaggia la miseria, pensavo che eri assubito. Una volta che mi compro Sommer che lo pago più di tutti gli altri portieri mi subisce il gol. È incredibile. Poi, in difesa chi ci avevi? Fabio Calafiori 0, io Milenkovic 0. A centrocampo a sinistra, io Orsolini da capitano 0, Fabio Rabiot 0. A destra a centrocampo, entrambi Luisa Alberto, per fortuna, perché era il derby. 0 per entrambi. In attacco, Fabio da capitano Vlaovic 0, io Niang più 3. Perché mi ha segnato? Di conseguenza io faccio più 2 in totale e il Goodfairbio fa meno 1. Quindi stasettimana vinco io. Da più 48 torno, se non sbaglio, a più 50. Già c'ero stato, forse. Mentre Fabio col meno 1 da più 37,5 scende a più 36,5. Negli scontri diretti di Mortacci, tu che soppuri mia, 17 vittorie per te e 11 per me. Cioè, non mi posso più permettere di sbagliare perché se no questo basta una scureggia e vince nei punti totali, diventa campione dei campioni d'Italia e via dicendo. Mi ha attaccato tutto, mi fia. Le scatarrelle, le nonne e le zie. Allora, poi parla in un unico contenuto, tutto rapidamente. In conto è che c'è sta lui che mi alterna, mi dà una mano. Ma così, ragazzi, veramente, poi mi sento manco bene. Fantagab. Sapete come funziona? Il budget questa settimana è limitato a 30 fantamilioni. Praticamente nulla. Non dovete sforare il budget. Vi diamo delle scelte. Tra le scelte costruitevi una squadra di calcio a 5. Un portiere, un difensore, due centrocampisti e un attaccante. Non valgono i voti. Sempre solo i classici bonus e malus che vi riportiamo qui in culo in pressione. Stavo di una cosa sozzissima. Scelte qua sotto nei commenti. Non dimenticate il capitano. In porta scegliete tra Ocoglie 11 crediti, Udinese Roma. Consigli 8 crediti, Sassuolo Milan. Scuffetta 8 crediti, Inter Cagliari. Turati 7 crediti, Napoli-Frosinone. Costil 3 crediti, Lazio-Salernitana. Difensore tra questi. Christensen dell'Udinese 4 crediti. Giocano Udinese-Roma. Casale 3 crediti, Lazio-Salernitana. Centonze 3 crediti, Atalanta-Verona. Toloi 2 crediti, Atalanta-Verona. Bonifazzi 2 crediti, Napoli-Frosinone. Primo centrocampista tra questi. Ghiasi 6 crediti, Lecce-Empoli. Shashu-Shashua, 6 crediti, Atalanta-Verona. Camada, no sembra una bestemmia così. Camada, 5 crediti, Lazio-Salernitana. Macumbu, o Macumbu che dir si voglia. Bene. 5 crediti, Inter-Cagliari. Linetti 4 crediti, Torino-Juventus. Manno giù un po' di saliva. Altro centrocampista tra questi. Barrenecea 6 crediti, Napoli-Frosinone. Icone 5 crediti, Fiorentina-Genoa. Coulibaly 5 crediti, Lazio-Salernitana. Zerbino 5 crediti, Bologna-Monza. E Ramadani 5 crediti, Lecce-Empoli. Attaccante tra questi. Siete pronti? Sentite che mi sono inventato stasettimana. Alkvist 11 crediti, Lecce-Empoli. Noslin 9 crediti, Atalanta-Verona. Defrel 8 crediti, Sassuolo-Milan. Cerri 6 crediti, Lecce-Empoli. E Iquemesi, o Iquemesi, chiamatelo come vi pare. 5 crediti, Lazio-Salernitana. Bene, queste sono scelte mie e queste sono scelte di Fabio. Pronti? 3-2-1. Tiè, guarda che roba che ha fatto quest'altro. Fabio fa Costil, Christensen, Kamada, Iconese, non leggo male. E chi è quest'altro? Chi ha messo? Noslin in attacco. Mentre io, ma non ho messo il capitano, Costil, Toloi, Kamada, Barrenecea e Almqvist. Devo scegliere il capitano, ve lo scelgo rapidamente. Non so chi mette. Io voglio fare una cosa di quelle... Ecco. Voglio fare una cosa di quelle esagerated, ma veramente esagerated. Non so manco se gioca veramente il titolare alla fine. Ma Merischio, Toloi, capitano, che non segna dal 15-18. Bene così, Fabio, ribadisco, ha messo Iconè, capitano, non so che cosa si era fumato, mentre sceglieva il capitano. Detto questo, mentre sputacchio, è rimasto veramente poco per fortuna, perché non ce la faccio più a parlare. Risultati sfida ai pronostici scorsa settimana. Se avete partecipato, riportate i vostri risultati qui sotto nei commenti. Allora, ci siamo sfidati in Roma, Lazio, Juve, Fiorentina. Su 1x2, Ammonito, Colno, Col, parziale, risultato esatto. Vediamo chi ha fatto meglio. Roma, Lazio, 1x2. Allora, io ho detto 1 e l'ho beccata. Fabio ha detto X e l'ha sbagliata. Immortacci tua. Ammonito, Romagnoli, io ho sbagliato. Fabio Paredes. Vabbè, ha preso due punti su questa. Poi, gol no gol, golle per entrambi, sbagliata. Parziale, io ho detto 1 e l'ho indovinata. Fabio ha detto X e l'ha sbagliata. Risultato esatto, io ho detto 2 a 1. Ha vinto a Roma 1 a 0, ma l'ho sbagliato uguale. Fabio ha detto 1 a 1 e l'ha sbagliata. Juve, Fiorentina, 1x2. Entrambi abbiamo detto 1 e l'abbiamo indovinata. Ammonito, Milenkovic, io. E sputo ancora. Gatti, Fabio. Sbagliata per entrambi. Gol no gol. Entrambi abbiamo detto gol e l'abbiamo sbagliata. Parziale, io ho detto 1 e l'ho indovinata. Fabio pure, però, ha detto 1, mo che guardo bene e l'ha indovinata. Risultato esatto, 2 a 1 per entrambi e ovviamente l'abbiamo sbagliata. 4 a 4 sta settimana. Perché Fabio con quel cazzo di Paredes fa due punti, più altri due fanno quattro. Io invece ne prendo quattro singole. Punti totali e scontri diretti. 101 per Fabio, 118 per me. Scontri diretti. Li mortacci, 2 che soppuri mia. 12 punti totali. Mi ha battuto 12 volte, io l'ho battuto 14 volte. E qua è tutto apertissimo, un po' di squacquerello. Onestamente, ce l'ho. Stasettimana, se siamo sfidati su, preparatevi. Torino, Juve e Bologna, Monza. Su 1x2, ammonito, under over, parziale, risultato esatto per entrambe le partite. Potete partecipare anche voi, questo è un video interattivo. Fate il vostro gioco qua sotto, nei commenti. Torino, Juve, 1x2. Io dico x, Fabio dice 2. Ammonito, buongiorno per me. Buonanotte per Fabio Ricci. Under over, under per entrambi. Parziale, x per me. 2 per Fabio. Risultato esatto, per me finisce 1 a 1, per Fabio finisce un'altra volta. 0 a 1, orto muso per Allegri. Non tanto per Juventus quanto per Allegri. Bologna, Monza, 1x2. Io ho detto x, Fabio ha detto 1. Ammonito, io ho detto Izzo, Fabio ha detto Cagliardini. Under over, io ho detto under, ovviamente Fabio ha detto over. Parziale, io ho detto 1, Fabio ha detto x. Risultato esatto, 1 a 1 per me. 2 a 1 per Fabio. 2 a 1, bologniamo per il Bologna secondo, secondo Fabio. Detto questo, porca mignotta, non ce la faccio più, manca a respirare. Allora, segna o non segna? Prima andiamo con i calciatori bonus, poi con i risultati. Riportate pure i vostri qua sotto nei commenti e poi parte la nuova sfida. Allora, queste erano le scelte che abbiamo fatto. Vediamo se qualcuno prende punti aggiuntivi. No, perché Fabio ha detto Calafiori, io ho detto Maturi che non esiste. No, sto scherzando. Acerbi non ha preso, non ha fatto collo, quindi niente di niente. Poi, allora... Ce la faccio più i mortacci tua, Fabio. Allora, andiamo avanti. Riportate i vostri risultati del segna o non segna. Questi sono i nostri risultati del scorsa settimana. e ora parte la nuova sfida. Tenetevi i calli che dovete fare scelte pure voi. Lukaku, segna o non segna? Li mortacci tua, tu hai detto no. Io ho detto sì, l'hai indovinata tu. Era meglio che hai indovinassi io, in realtà. Però 1-0 per Fabio. Immobile, segna o non segna? Entrambi abbiamo detto no. Non ha segnato, quindi 2-1 per te. Vlaovic, segna o non segna? Abbiamo detto entrambi sì e non ha segnato. Rimaniamo 2-1 per te. Belotti, segna o non segna? Tu hai detto sì, io ho detto no. L'ho indovinata io, quindi andiamo sul due pari. Ma li mortacci tu hai beccato pure, gli becco sempre io. A sto giro, vabbè, una volta ogni tanto becca pure lui. Deron, ha munito o non ha munito? Tu hai detto sì, io ho detto no. Dovinato te? E Sommer, abbiamo detto entrambi che non avrebbe subito gol. E invece Sommer il gol l'ha subito. Quindi li mortacci tu un'altra volta, che so pure i miei, un'altra volta. 3-2 per te. Punti totali, scontri diretti. Che cazzo ho scritto qua? 97 punti per te. 112 per me. Siamo negli scontri diretti. 12 vittorie a 15. Pure qua è tutto abbastanza aperto. Devo cercare di fare in modo di rimettermi davanti e di vincere un'altra partita. Potete partecipare anche voi a questa nuova sfida del segna o non segna. Proposte e controproposte. Le sto per fare a voi qui sotto nei commenti. Noi ci abbiamo già tutte le scelte fatte. Duvan Zapata. Torino. Juventus. Segna o non segna? Questo ha detto no. E io pure ho detto te no. Dusanblauic invece. Segna o non segna in Torino Juventus? Io ho detto te sì. E Fabio ha detto te no. Zirkze in Bologna. Monza. Fabio ha detto te no. Io ho detto te sì. Diuric o Diuricic o Diuricic. Quello là del Monza. Segna o non segna? Sempre contro il Bologna. Avemo detto entrambi te no. Ani. Ergena. Mi ricordo con chi gioca. Aspettate che verifico subito. Mi pare che giochi con chi è? Con chi cazzo? Con la Fiorentina. Ammonito o non ammonito? Abbiamo detto entrambi te no. Nessuno se l'è sentita di rischi alla. Eskorupski contro il Monza. Ergoal. Opia o no Opia? E abbiamo deciso entrambi che Ergoal lo prenderà. Bene. Detto questo. Abbiamo fatto pure i giocatori bonus. Ci sta scritto sotto quello di chi è. E sta posto così. Fate le vostre scelte qua sotto nei commenti. Ecco là. Fabio ha detto Manolas e io ho detto Bremer. Vediamo se andiamo ad aggiungere i punti. Mi raccomando non dimenticatevelo manco voi. Tutte le scelte qua sotto nei commenti. A momenti spacco tutto. Ce la faccio più per i mortacci tua. Grazie per la visione. E ci becchiamo alla prossima con un nuovo video.